Precious girls Un'amica ha chiesto a Clara di fare un quadro rappresentando le donne per pubblicare in un gruppo Facebook che fa rete tra le donne imbattendoci in un articolo del National Geographic che parla dei giovani che pulsano per e con il nostro pianeta Da lì Clara ha preso in mano il pennello dipingendo quattro ragazze che contribuiscono a un mondo migliore Kekshan Basu che promuove la parità del genere e la fraternità globale Mayumi ricercatrice associata al Center for People and Forests Alexandria Villasenor è un attivista seguace del movimento Fridays for Future Malala nota per il suo impegno al diritto all'istruzione È un dipinto realizzato in acrilico su due pannelli di legno 90 cm alto per 192 cm in totale di larghezza